Sei stanco di spendere crediti per comprare pacchetti? Passa su www.thefoodshop.com e utilizza il codice ZAMP per avere un 5% di sconto sugli acquisti Bella ragazzi, come sempre ZAMP che vi parli oggi, sono tornato su FIFA 15 in compagnia di Johnny Crick Ma che nome ha la tua squadra? Troventus 2, ah no, Doncaster's Don'ts è il nome che, non so perché ce l'ha, è dall'inizio del... Doncaster, bella fratelli, sono Johnny Crick, paramechico Comunque, come noterete quest'oggi, non stiamo facendo una sfida normale, con squadre normali, bensì siamo su Ultimate Team E nonostante mi fossi... Sì Non ho comprato Michael Leiter in attacco Ma che palle, io non sono Michael Leiter Guarda questo corre fiarissimo Nonostante mi fossi ripromesso che non avrei mai più giocato ad UT, in vista del torneo foot FIFA Melagodo, qui bisogna allenarsi, che cazzo Mechico! Madonna, che culo Mechico, è il pettinato, è lui, vivi che è lui, guarda come corre male, sì Comunque, dicevo, bisogna allenarsi all'utilizzo di queste nuove formazioni Uh, bello il corridoio per Quadrato, Quadrato, può arrivare fino in fondo, Quadrato Ochoa, ti prego Rientra il tiro Gol Ochoa, però, Ochoa, 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 per tutte le religioni del mondo, però Andavai due all'ora quella palla Comunque ragazzi, voglio ricordarvi che se il video vi sta piacendo potete lasciare subito un bel like per il mio ritorno su Ultimate Team E' inutile che dici quella roba lì per coprire che Ochoa hai fatto gol soltanto perché Ochoa è una merda Non è vero Non funziona Funziona, Mechico Non ci sta, Diego Costa è il bug, la palla gli rimane magn... Sii Costa Dai Bella ragazzi, bella ragazzi, fate vedere come... Rigore Ma cosa che non l'ho toccato, non di cazzate Rigore che ladrata Oh, sbaglia tutto Johnny Creek Sbaglia tutto Johnny Creek Dai, arriva, ci tira No C'è rigore per me, non per lui Ma che cazzo Paramechico, Michael Leite, 92 di velocità, si ferma Wow, Michael Leite Cioè, oh, ha buttato giù un aldo, eh Ha buttato giù un aldo, un metro e 92 uomo Vabbè, però non puoi sbagliare Attenzione Zap, è nel panno, è nel pallone Michael Leite Oh, ma che cazzo fa L'ho vista dentro, ti giuro Michael Leite Ti giuro l'ho vista dentro Ma che cazzo c'ha oggi Diego Costa, è drogato Mamma mia, Zemp Oh, oh, Corri Leite, Corri Leite, oddio Michael Leite Vabbè, ma che cazzo è, dai È ancora un bug, nonostante siano passati due anni Ancora non l'hanno sbagato, quest'uomo Ma che cazzo è Che bug Quando tira, quando tira Cazzo Dio, Costa Guarda Costa, Costa Non ci credo Non ci credo Non ci credo Con gli erbani L'ha parata col piede, dai L'ha parata col cazzo di piede Lo sono inside Attenzione, la palla è ancora lì Attenzione, Zampetta, pericoloso inside Oh, c'ho Oh, c'ho Però, cazzo E, 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 e Michael Leite Arroyo, 5 stelle di skill Viene fermato, ingiustamente Attenzione Michael Leite Si gira la botta Mamma mia C'è un gufo maledetto, però, eh Wyn Wyn Aldo, un Zamp Fer Come? Come? Fer, cerca Vyn Aldo Un po' Sceglie lui Gustavo Costa Sulla fascia verde Oh, bello Oh, bello Oh, Gioia, ti prego Ma cazzo Ma salta prima Con quella testa pelosa Ghi, 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 Gioia Arroyo, se ne va Michael Leite Ma che sa C'è spostato Michael Leite Non ci credo Cioè, si è spostato Ma l'hai visto? Gli si è spostato davanti Ma con lei Guarda Io non so che cazzo c'ha Quest'uomo Guarda Visto? Hai visto? Si è spostato Io non gli ho detto niente Dammi la palla Bambinetto Dammi la palla Bello Crossone dentro Colpo di testa Porca tua Mi sono rotto le palle Che piglio sempre pali Che cazzo Vai con Leite Vai con Leite Rimatta la situazione Vai con Leite Ma guarda Li fanno casino Vai con Leite No Rigore Rigore C'è nessun rigore Si sa Dai Che culo hai Quale cazzo di culo hai? Me lo spieghi? Cazzo è la rigore Saliamo Saliamo Quanto manca? Saliamo Oh Oh Cazzo Cosa fa? Cazzo c'è? Ma cazzo Che cazzo è successo? Io non capisco Vai con Leite Da solo Vai con Leite Contro l'Aldo No No guarda Non ci credo Cosa succede? Cazzo di culo hai? Va squads Vabbè Ti sta Aia Andiamo 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 Rigore Apri tutto Apri tutto Apri tutto Fermati Servi me Non lì cazzo Non è finita Si Si Paramechico No Queste cazzate Ma no Ma Dai Dai andiamo Su Andiamo Su Si può Fare Si può Fare Si può Fare 5 minuti di recupero Ma non così Cazzo Eh no Attenzione Paramechico Ancora Cosa fai Oh No Boom Vabbè Buttala su Buttala su Dai che facciamo Il tempo Dai che facciamo Il tempo Dai che si può Fare Oh Si può Fare Si può Fare Si può Fare Si può Si può Fare No Era goal Cazzo Che cazzo Dici Era goal C'ero C'ero dentro Si Eh vabbè ragazzi Questa sfida E' finita così Vittoria Immeritata Di Johnny Creek Per Io spero Come sempre Che il video Vi sia piaciuto In caso Vi sorti A lasciare Un bel Mi piace Commento Iscrivervi Al mio canale Ci vediamo In un prossimo Video Bella ragazzi Ciao da Zampetti Bella Bella Rega